eccoci qui allora amici di Sportface ben trovati alla seconda diretta giornaliera targata appunto Sportface siamo partiti con Rossella Fiammingo che è stata intervistata da Eleonora De Giorgio e Matteo Mosciatti adesso invece è il momento di tornare al al tennis lo facciamo con un graditissimo ospite che intanto ovviamente saluto Andrea Scanzi ben trovato Andrea piacere tutto mio ciao Ale giornalista scrittore conduttore esperto di politica musica vino sport cani anche chi più ne ha più ne metta questa sera gli facciamo abbandonare però eh quasi quasi del tutto eh aggiungo quasi del tutto la la politica ci sarà forse una sorpresa poi vedremo insomma sul sul finale aiuto vogliamo vogliamo tuffarci nel tennis con te perché insomma è un mondo che hai sempre amato che ami eh di cui sei appassionato di cui sei esperto perché insomma l'hai seguito anche a livello professionale per per parecchio tempo anche se se non tutti lo sanno magari i i tuoi nuovi fan lo sanno meno rispetto a quelli che ti seguono invece da da parecchi anni ehm parliamo ovviamente di tennis passato presente futuro visto che in questo momento non si gioca chissà per ancora quanto tempo non potremo eh vedere tennis dal vivo ma degli argomenti tenistici ce ne sono tanti tantissimi soprattutto eh per quanto riguarda alcuni personaggi di questo mondo che che ci piace raccontare che ti piace immagino immagino ammirare io leggo eh sono andato a rivedermi un'intervista che ti abbiamo fatto la firmò Federico Mariani su spazio tennis eh sei anni fa in cui sostanzialmente tu davi una definizione del tennis dicevi il tennis ha il fascino della sfida personale del duello della battaglia spietata tra due psicologie contraposte lo sport più cattivo di tutti serve un coraggio incredibile una tenuta mentale straordinaria talento fisico credo sia uno dei pochi sport adatti all'epica e alla narrazione ecco sono questi i motivi immagino che ti abbiano fatto innamorare di questo sport sì me la ricordavo quell'intervista non esattamente questa frase confermo tutto quello che vi ho detto sei anni fa ed è vero credo che sia lo sport più epico credo che sia lo sport più cattivo lo sport del diavolo come diceva Rino Tommasi non solo Rino Tommasi credo che sia pieno di eroi quelli che conosciamo e quelli che magari si sbattono lontano dalle televisioni dalle telecamere come 300 400 del mondo che voi di sport face e tu Alessandro hai sempre raccontato avete sempre raccontato bene e per tutti questi motivi mi ha sempre affascinato è uno sport durissimo e meraviglioso in più l'ho anche praticato anche se non con risultati straordinari quando ero più giovane è sicuramente lo sport che amo di più poi come hai detto tu le persone magari mi conoscono per la politica per otto e mezzo e per quello che mi ha reso tra virgolette famoso ma il tennis è una passione vera una delle poche reali possioni che ho la domanda nasce spontanea però dalla dall'ultima parte di quella frase perché tu hai detto uno dei pochi sport adatti all'epica e alla narrazione tu hai scritto una ventina di libri adesso vado così a memoria quello sul tennis quando arriva sai qual è il problema ale il problema è una bella domanda la tua e molti me la fanno e avete ragione mi piacerebbe scrivere un libro su edberg mi piacerebbe scrivere un libro anche su kios che sarebbe molto divertente per certi versi c'è un problema tecnico e quantitativo alessandro i libri di tennis vendono poco o sei uno che scrive che ne so se il ghostwriter di agassi o di meccaro e allora vendi o di federer e allora vendi però quando tu scrivi un libro sul tennis attuale o anche passato non vendi granché e allora non c'è esattamente la corsa da parte delle case editrici per questo motivo ancora non ho scritto un libro di tennis ma non escludo di farlo e in qualche libro molti anche alcuni romanzi ci sono sempre dei riferimenti tenistici credo che in almeno quattro libri stefan edberg per esempio sia tornato anche a teatro lo raccontavo spesso edberg e meccaro li ho raccontati spesso e sono un po i due i due nomi da cui parte la tua passione no credo di sì credo di sì meccaro non ho fatto in tempo fino in fondo ad apprezzarlo in diretta perché quando lui perde la famosa partita a Roland Garros con Landell avevo dieci anni quindi ero veramente acerbo edberg l'ho vissuto a pieno ho vissuto l'epoca in cui dovevi decidere se eri per becker o per edberg io ero per edberg ho goduto come un riccio nell'88 nel 90 quando quando edberg ha vinto Wimbledon nell'89 mi ricordo che ero in montagna con i miei genitori avevo una fidanzatina come si diceva all'epoca che era stratifosa di becker e io la detestavo solo per quel motivo lì per l'altro l'adoravo e purtroppo fu l'anno tu ti ricorderai bene che becker disintegrò in finale a Wimbledon edberg e quindi io mi ricordo come una ferita allucinante quei 3 7 a 0 di becker edberg e però sono stati anni molto belli sì mi sono innamorato del tennis in quegli anni lì tu sei noto per aver scritto vari articoli su Roger Federer soprattutto nella prima parte della carriera quando sostanzialmente criticavi non tanto il giocatore quanto due cose intanto i tifosi di Federer che devo ammettere in alcuni casi vanno spesso fuori fuori dalle righe e dall'altro il fatto che ti annoiava non il suo tennis ma il fatto che vincesse sempre sostanzialmente che quindi non c'era un cambio no al vertice però ecco siccome sei noto anche e ci sono state polemiche ci sono quelli che ti seguono quelli i famosi hater che ovviamente ti attaccano per questo vuoi raccontarci esattamente oggi dopo tanti anni dopo che Federer sostanzialmente la carriera l'ha vissuta sostanzialmente tutta chi è Federer per te? Ma intanto ti faccio i complimenti perché sei una delle poche persone che ha riassunti in pochi secondi benissimo quello che è successo nel 2003 4 5 poi gli haters sai bene perché capita anche te che sei un personaggio pubblico non appena diventi famoso ci sono quelli che ti amano e ti odiano quando hai un milione e mezzo di fan è chiaro che c'è qualcuno che ti odia lo metto nel conto su Federer hai detto bene io detesto gli ultra che siano di Federer di Nadal di Diokovic di Chirio cioè detesto quelli che non ragionano o dicono a prescindere il tennis è Federer no il tennis è Federer poi è Nadal poi poi Diokovic poi Marre poi Chirios poi è tutto qui non è solo Federer e poi è vero che in quegli anni lì diciamo 2003 2007 2008 mi annoiavo un po non per colpa di Federer che era un fenomeno mi annoiavo per il fatto che sapevo benissimo che se Federer era iscritto a qualsivoglia torneo a parte quelli su terra rossa ne avrebbe vinti lui perché tanto in finale ci arrivava e vinceva e spesso vinceva perché qualcuno tipo Liubicic che è stato un grandissimo tennista e oggi un ottimo allenatore arrivava in finale poi sul più bello si anche aveva la possibilità sprecava match point arrivava a vincere Federer dopodiché non l'ho mai detestato ho sempre detto che era un fenomeno assoluto ti posso dire che il miglior non il migliore il miglior Federer è tutto perché Federer è un gigante assoluto e lo sarà sempre rimarrà nella storia non solo del tennis ma dello sport e della vita il mio Federer preferito è quello iniziale che era un Federer iconoclasta scapestrato pazzo folle che si pettinava in maniera assurda con questi capelli biondi che spaccava le racchette perché era più arrabbiato mi divertono di più che personaggi e quello che ho amato tanto quanto il primo è stato il Federer quando io stesso insieme a milioni di italiani di persone nel mondo abbiamo pensato che fosse sulla via del tramonto ecco quando Federer temevo di perderlo e l'ho ritrovato ad altissimi livelli lì me ne sono nuovamente innamorato del tutto io non ho mai non amato Federer non amavo e non amo le dittature in qualsiasi forma anche quelle temistiche ma Federer è un gigante e se proprio devo scegliere preferisco il Federer un po' più fragile quindi quello di inizio carriera è quello di fine carriera ed è un fine carriera meraviglioso perché il Federer degli ultimi 3-4 anni è qualcosa di straordinario. È un po' quello che è successo anche con Nadal che per anni ha dominato quando era in forma soprattutto sulla terra battuta non c'era storia ma insomma ha vinto tanto anche altrove e negli ultimi anni invece ha dei momenti in cui torna il vero Nadal ma tanti altri in cui fa più fatica. Quando li vediamo più umani ci piacciono di più possiamo dirlo così? Senza dubbio senza dubbio io mi ricordo anni fa tu ti ricorderai l'anno esatto io adesso c'ho una piccola manchevolezza di mnemonica mi ricordo quando Nadal si ritirò durante Roland Garros che sarà stato tre anni fa credo perché si era infortunato e quindi noi pensammo che di fatto lui non avrebbe più vinto Roland Garros. Mi ricordo che mi mandai uno scambio di whatsapp con Federico Ferrero bravissimo telecronista di Eurosport e non solo e lui mi scrisse mi sono commosso perché temo che non lo vedremo vincere mai più uno slam e mi ricordo che ero davanti a quella conferenza stampa quando annunciò il suo ritiro da quel torneo. Poi è successo che invece lui ha ricominciato a vincere ed è vero il fascino che hanno i tennisti contemporanei enormi cioè come Federer, Nadal ma anche Djokovic pure Djokovic qualche bella batosta di fortuni l'ha avuta non è soltanto la loro grandezza enorme perché forse non è mai capitato che in contemporaneità avessimo tre enormità simili pure quattro perché il miglior mare era enorme pure lui ma l'enormità viene accentuata dal fatto che loro si sono rialzati più volte e in questa capacità di rialzarsi più volte proprio quello che più ce l'ha fatta e più ormai è diventato definitivamente epica proprio Nadal che è un tennis per me più distante perché io amo un po' i gesti bianchi come direbbe Gianni Clerici però è chiaro che come fai a non avere un rispetto profondo agonistico umano e morale nei confronti di uno che sembrava non poter più giocare ad alti livelli invece ha fatto quello che ha fatto siamo di fronte a un'epoca con tanti limiti con tanti problemi ma almeno abbiamo avuto la fortuna di vivere la contemporaneità di Federer e di Nadal e Djokovic. Se dovessi scegliere oggi adesso io vado ovviamente di palo in frasca è quello che mi viene in mente ti chiedo se dovessi scegliere oggi un match da vedere dal vivo eh chi sceglieresti perché faccio una piccola premessa ovviamente eh tanti dei più grandi match della storia sono stati contrasti di stili quindi magari un grande attaccante un grande difensore verrebbe da dire magari sai due giocatori fortissimi tecnicamente però non sempre vengono fuori delle bellissime partite se dovessi scegliere sto allungando la domanda così magari ci pensi se dovessi scegliere questi due giocatori da vedere all'opera per il match della vita diciamo chi scegliereste? Guarda se penso al passato non troppo ma diciamo un dieci dodici anni fa mi ricordo delle partite epiche per esempio tra Federer e Gasquet mi ricordo credo nel 2005 un giovanissimo Gasquet che batte Federer a Monte Carlo una partita pazzesca l'ho amato profondamente Gasquet io ho sempre amato un po' gli outsider outsider si fa per dire era un fenomeno però diciamo mi piacciono quelli che sono fortissimi ma che hanno qualche fragilità quindi Gasquet in questo senso era perfetto come tanti altri penso a Melzer penso alle conta andando più indietro ancora Forge potrei fare una lista lunga tra i tennisti contemporanei è difficile mi ricordo recentemente delle partite di una bellezza assoluta tra Federer e Kyrios ecco diciamo che il miglior Federer contro il miglior Kyrios hanno dato spettacolo in maniera indicibile ed è uno dei motivi per cui mi fa profondamente arrabbiare e se fossi nelle mie dirette Facebook non avrei detto arrabbiare ma avrei detto qualcos'altro Kyrios perché Kyrios ha un talento monumentale ma se ne dimentica troppo spesso ecco quando vedi un gigante come Federer e un gigante provvisorio frammentato come Kyrios che si scontrano beh tanta roba dopodiché sai per fortuna quando ricominceremo a giocare a tennis e a vedere tennis avremo l'imbarazzo della scelta perché quando vedi gente come Shapovalov e gente come Sisypas ci sono tanti tanti talenti io aspetto con grande curiosità i next gen che non sono più next gen ma sono ormai in realtà anche Tim è uno che ci ha regalato tantissime partite di livello assoluto nei tempi recenti. Non mi sembra un caso comunque tu stia citando tutti i rovesci a una mano. Ebbè Ale un po' ci conosciamo anche se forse dal vivo non ci siamo mai visti. Io ho 46 anni quindi quando giocava a tennis io si giocava soprattutto a una mano e quindi per me il tennis è una mano poi per carità Kyrios ha il rovescio a due mani e non solo lui insomma ci sono dei giocatori straordinari a due mani però quella una mano lo preferisco. Io trovo che il rovescio di Gasquet quando funziona sia poesia pura, trovo che il rovescio di Usni era poesia pura, trovo che il rovescio di Wawrinka sia poesia pura e potrei dire la stessa cosa di Tsitsipas e di Shapovalov. Shapovalov è un tenista estremamente fighetto tra mille virgolette. Uno che si accontenta spesso del colpo mirabile e non ti vince la partita ma quando gioca bene Shapovalov a cui 30-40 minuti ti riconcili con la vita. C'è una domanda di Matteo Mosciatti del nostro collega che ti dice però non pensi che se Kyrios ricordasse più spesso di avere quel talento non sarebbe Kyrios? Ha totalmente ragione, l'ho scritto tante volte anche sulla mia pagina sul fatto quotidiano, è vero ed è vero che se lui si ricordasse sempre del talento diventerebbe un dittatore e ci piacerebbe di meno. Diciamo che bisogna trovare una via di mezzo secondo me Ale nel genio sregolatezza perché se sei soltanto sregolatezza nessuno si ricorderà di te. Il genio sregolatezza deve essere anche genio, gliel'ha ricordato Mecker, Mecker gliel'ha detto sì ok sei un fenomeno però abbi più rispetto per il Roland Garros per te stesso perché hai una grande dote, nessuno ti chiede di vincere quattro slam su quattro, non devi fare il grande slam. Però ogni tanto vinci qualcosa di veramente importante, almeno un master series lo devi vincere, non è possibile che lui, che se non sbaglia 95, credo, forse sbaglio, a 25 anni ancora non abbia vinto un master series, quindi ok l'ha sregolatezza però lui è uno che anche nella follia deve stare male che vada sempre nei primi 15 e sto basso per il talento che ha. Eh sì, strato Kyrios è uno di quelli che si capisce la sua forza dal fatto che quando gioca bene sono gli altri che vanno fuori di testa, quelli che giocano contro lui ma anche i più calmi. Ho visto giocatori veramente diventare nervosissimi con Kyrios che aveva voglia di giocare perché tu entri in campo e pensi vabbè dai Kyrios nell'80% dei match non ha voglia e se invece però becchi la giornata sbagliata poi vai fuori di testa tu. Eh perché il miglior Kyrios è probabilmente in grado di battere chiunque. Io l'ho visto poche volte Nadal perdere la testa, l'ho visto se non sbaglio nel 2008 gli australi erano open con Songha quando Songha in semifinale giocò una partita che sembrava Edberg perché gli entrava di tutto sotto rete, era una roba allucinante e l'ho visto proprio contro Kyrios. Poi ultimamente Nadal lo bastona spesso ma per quanto lo bastoni c'è una frizione emotiva e fisica e intellettuale, psicologica tra i due, che è dettata proprio dal fatto che Kyrios è potenzialmente uno che mette, può mettere e può mandare in crash qualsiasi psiche fortissima compresa quella di Nadal o di Dioccovici, infatti ha battuto entrambi i pivoti. E per quanto riguarda Fognini, che tipo di assonanze ci sono con Kyrios? Sicuramente è un genio di regolatezza perché lo abbiamo lo abbiamo ben ammirato, però ecco ci sono delle differenze, che cosa Fognini comunque è un 87, quindi insomma la sua carriera l'abbiamo già vissuta anche se ancora speriamo di vedere qualche anno ad alto livello. Ci sono delle assonanze innegabilmente. Io l'ho sempre difeso Fognini, anche se spesso l'ho criticato perché a volte era impossibile da non criticare, soprattutto per certe affermazioni che diceva durante le partite. Dopodiché per me sono molti più i pregi dei difetti di Fognini. Intanto Fognini è stato un top ten, non mi risulta che Kyrios lo sia, quindi si affretti Kyrios esserlo. Fognini per me ha ottenuto tanto dalla sua carriera, non tutto, perché forse si poteva anche giocare magari una finale di un Roland Garros se avesse avuto un tabellone migliore. La Roland Garros ha qualche piccolo treno almeno due volte e lo ha perso. Credo che sia un giocatore meno appariscente in maniera proprio monumentale rispetto a Kyrios, ma Kyrios è uno proprio da livelli incredibili, cioè lui è uno da drop trotter. Nessuno nel tennis contemporaneo è a livelli di Kyrios, è uno che può farti il tweener, può farti un po' più chiusi, cioè non è paragonabile a nessun altro. Fognini è uno dei più divertenti, esattamente come Kyrios è uno che è acceso due volte su tre o anche una volta su due e quindi ci sono delle volte che gli spaccheresti la chitarra, sì la chitarra, anche la chitarra, la racchetta è un laps freudiano, sì, davanti di Jimmy Hendricks. Gli spaccheresti la racchetta in testa, come a volte fa lui stesso, e altre volte invece lo ami totalmente. Diciamo che per quanto mi riguarda, per dirla con Catullo, sono più le volte che lo amo che non le volte che lo odio, perché è un grande Fognini, è uno che dà spettacolo, quindi ad averne di gente come Fabio. Allora, visto che rimaniamo sugli italiani, però facciamo un passo indietro nel tempo, perché adesso stanno arrivando tantissimi commenti e quindi alcuni me li sto perdendo, però prima della diretta, Flavio Cipolla, ex 70, grande, grandissimo, mi aveva, mi ha mandato un messaggio dicendomi se accettavi questo scambio, tu sostanzialmente devi regalargli una copia del Cazzaro Verde, il tuo libro su Salvini, autografato, ovviamente lui ti insegna il back di rovescio, questo è lo scambio che voleva fare. Ma io gli regalo tutta la mia opera di te, anche se non se ne farà di nulla, Flavio è stato un tenista meraviglioso, io lo chiamavo, se non sbaglio, il rincoglionitore, perché aveva la capacità di rincoglionire qualsiasi avversario, mi ricordo quanto ha fatto arrabbiare Vavrinka, era straordinario, è sempre stato un anarchico totale, un dadaista della racchetta, quindi figurati, per il back di cipolla sono disposto quasi. Assolutamente, senti invece vediamo al tennis italiano attuale, perché ci sono tanti giocatori di ottimo livello, soprattutto giovani e questo è un qualcosa di abbastanza nuovo per quanto ci riguarda, perché sono tanti, Berrettini ovviamente è il primo nome e quindi ti chiedo qualcosa su di lui intanto, poi passiamo a Sinner che invece è il nome nuovo che sta salendo e magari anche un commento su Musetti che è ancora più giovane, ma insomma è già uno che si sta cominciando a raffermare. Intanto meno male che possiamo dire che c'è l'imbarazzo della scelta, perché quelli che sono nati negli anni settanta come me si ricordano ormai come ultima fase d'oro e comunque è stata una fase provvisoria, prima quella di Canè, poi quella di Camporese e Gaudenzi, e poi Caratti e poi Furlanna, però tutta gente che è stata al massimo 18-19 del mondo. Poi è arrivato Volandri, poi è arrivato Starace, poi sono Seppi e poi sono arrivati quelli che ci sono adesso, quindi meno male, speriamo di tornare a giocare in fretta così ci riabitueremo a questo imbarazzo della scelta. Berrettini mi piace tanto, io credo che nella mia pagina Facebook abbia scritto degli articoli folli, perché quando scrivi gli articoli dopo le vittorie dei tuoi idoli scrivi un po' da tifoso, un po' da scemo, quindi ci metti anche troppa enfasi, però li riscriverei esattamente come li ho scritti, perché mi ha regalato e ci ha regalato delle gioie che non provavamo da tempo. La vittoria di Berrettini su Monfields, a US Open dell'anno scorso è stata una delle partite più belle che abbia visto, ho perso credo 7-8 anni di vita, ho spaccato 5-6 telecomandi, ogni volta che non chiudeva la partita prendevo un telecomando e lo spaccavo con tutto, ma letteralmente, ero pazzo, cioè la mia compagna mi guardava tonita, però ad averne di emozioni così, quindi mi piace molto Berrettini, spero di intervistarlo perché mi sembra che ho una bellissima persona e un bravissimo ragazzo, mi dispiace che abbia avuto questo infortunio, ma purtroppo il coronavirus gli ha dato tempo di rimettersi pure troppo, credo che lui l'anno scorso abbia fatto un mezzo miracolo, perché nessuno avrebbe mai immaginato che potesse chiudere 8 al mondo, gli auguro di attestarsi su quella fascia, perché sarebbe sbagliato chiedergli di fare un'altra annata uguale alla precedente, lui secondo me deve capire di stare tranquillamente nei primi 15-20 al mondo e poi stabilizzarsi sui 10, è un grandissimo giocatore, mi piace tanto Sinner per me è un predestinato, so che è una parola che lui ama poco e piatti e sartori, scusa, mi ama ancora meno e ha ragione, però piatti anzi l'ama ancora meno, perché è vero che sai, il predestinato sembra uno che non ha bisogno di allenarsi, quindi è particolosissimo, è vero, benissimo ragionare in questo modo, però mi sembra che Sinner sia uno nato veramente per poter fare tutto, era un fenomeno con lo sci, è un fenomeno a tennis, ha delle grandi potenzialità, lo dicono tutti, lo dice Diokovic, lo dice Federer, figurati se non lo dico io, mi piace molto, un anno fa avrei detto che esteticamente mi divertiva di più berrettini e forse ancora la penso così, ma più cresce Sinner, più mi piace, più mi diverte, ha delle potenzialità pazzesche, in termini prettamente estetici è chiaro che quello che mi diverte di più è Musetti, perché Musetti è talento puro, Musetti ha un l'approccio dei Gaskea, un po' l'approccio di quegli outsider anacronistici a Tsitsipas che giocano un tennis che non si dovrebbe giocare nel 2020, ma che hanno un talento tale per cui se lo possono permettere, poi lui ancora lo deve dimostrare molto più di berrettini ma pure di Sinner, però ecco loro tre sono veramente tre che ci mettono di buon umore, ci danno ottimismo, uniti poi a tutti gli altri, penso per esempio a Sonego, penso a Magher che è un altro che ha fatto di miracoli, insomma c'è veramente l'imbarazzo della scelta e nessuno come te o i nostri telespettatori lo sa. Eh sì, Magher è tra l'altro allenato proprio da Flavio Cipolla. Vincenzo Giorzillo mi ha mandato questo messaggio prima e lo ha ripostato anche live, quindi questa domanda te la vuole fare proprio tanto ed è sostanzialmente una domanda che riprende quello che hai già detto, però entriamo più nel dettaglio perché dice sostanzialmente Sitsipas, Shapovalov, ma anche Musetti, è parlato anche di team, comunque rovescia una mano, fantasia, anche fisico ovviamente, si può ritrovare un antico splendore con questa generazione nel tennis, secondo te antico splendore ovviamente rispetto al passato di gesti tecnici di un certo tipo di cui abbiamo già parlato. Sì, si può ritrovare ma sarà un ritrovarlo in maniera sparuta perché come tutti sanno ormai le scuole di tennis non te lo insegnano più quel tipo di tennis. Quindi la bellezza e la meraviglia di giocatori come Shapovalov, come Musetti e come Sitsipas è dettata sì da qualcuno che ha creduto in loro e spesso sono i genitori ma non solo. Però è dettata anche da caso perché io credo che Shapovalov sia nato con quel talento lì. Quel rovescio lì non te lo insegnano a scuola. Se ci fossero delle scuole che ti insegnano quel tennis e ci andremo tutti di corsa, semplicemente Shapovalov è nato con quel talento lì e con quel rovescio lì come Maradona era nato con quel talento lì. Poi serve la testa per assecondare, addomesticare quel talento sovrumano e purtroppo accade spesso che quelli che sono nati col talento totale, visto che sono comiti che gli basta essere nati per essere forti hanno una voglia e quindi ci sono i bautista che si fanno un mazzo così perché non hanno quel talento o i seppi o tanti altri e ci sono quelli che sono benedetti così tanto dalla Dea Bendata che non si allenano. Direi il caso per esempio di Shapovalov per non parlare di Kyrios. Però rispetto a qualche anno fa, ragione Torzillo che è un mio caro lettore troppo buono nei miei confronti, ha ragione sul fatto che ci sono più panda rispetto a qualche anno fa. Qualche anno fa trovare quelli che io chiamavo gli orteghiani, da Ortega che era un calciatore molto anomalo. Ecco, gli orteghiani erano pochi, bisognava accontentarsi dei mezzi, bellissimo giocatore, però insomma non era proprio rinunciabile. Adesso secondo me ce ne sono più, ce ne sono tanti di panda e questo rende il tennis più divertente secondo me, ancora più divertente di quanto già non lo sia a prescindere. Assolutamente, ce ne sono anche altri ragazzi che stanno venendo su, che giocano un tennis molto piacevole, penso a Montella, un francese per esempio, che comunque fa fatica ma ha tanto talento, ma anche lo stesso Herber, non solo in doppio ma anche in singolo, uno che gioca molto bene a tennis. Hai citato Seppi, non possiamo non fare una battuta su Andreas perché oggettivamente è stato forse il giocatore che più hai massacrato nel corso dei tuoi articoli e lui devo dire che è sempre stato molto un signore perché non si è mai presa e non ha mai risposto via via social o nulla di che. Volevo sapere anche come avevi vissuto poi quella grande impresa contro Federer a questo punto. Guarda, Andrea Seppi è un gigante. Io sono contento della domanda che mi hai fatto perché io non rinnego quello che ho scritto ironicamente da un punto di vista estetico. Chi mi ha sentito anche adesso, chi mi ha detto negli anni passati sa bene che io amo un tennis molto diverso da quello di Seppi. Quindi è ovvio che esteticamente io riguardo una partita di Meccaro e non una partita di Seppi. Credo che nessuno mi punirà per questo. Diciamo che tra Meccaro e Brughera preferisco Meccaro e tra Schapovalo e Seppi preferisco Schapovalo. Spero di non meritare la fucilazione per questo. Ma non ho mai tolto neanche un'oncia della sua grandezza sportiva perché non si diventa 18 del mondo, forse anche di più, è stato alcune volte, non lo ricordo, senza essere dei fenomeni perché altrimenti non ci arrivi a quei livelli lì. Non gli ho tolto un'oncia della sua forza fisica e della sua forza mentale. Seppi è un esempio. È un esempio perché ha ottenuto il massimo della sua carriera e da un talento che c'era ma non era straripante e come tu hai lasciato intendere dalla riflessione è un esempio anche come autoironia e come tolleranza nelle critiche. Perché io ti posso garantire anche tra i tennisti ma più ancora tra i politici o tra i musicisti o tra i calciatori o tra i giornalisti che ci sono persone che non dico mi hanno querelato, è successo anche quello, ma mi hanno augurato la morte per molto ma molto molto meno rispetto alle battute che ho fatto soprattutto ormai molti anni fa nei confronti di Andreas. Lui non l'ha mai fatto, so che mi ha sempre letto, sempre, so che mi conosce, che mi legge, abbiamo anche degli amici in comune. Questo rende ancora più bravo e devo dire che in alcuni casi per quanto sia sempre stato profondamente ironico nei suoi confronti probabilmente ho anche esagerato. Quindi colgo anche l'occasione per dirgli che è veramente una grande persona ed è stato ed è tuttora un grande tennista. Ed è stato tuttora un grande tennista, fai bene a sottolinearlo perché sono anni che è a quel livello ed è impressionante perché nonostante alcuni cose. Lui è sempre lì, è sempre lì. Non mi ricordo cos'è, cos'è lui? Un 85? Forse un po' più, forse un 87 cos'è? 84 addirittura. Si sta parlando di un 36enne. Fenomenale, fenomenale. Veramente un grande. Non c'è niente da dire. Noi siamo pieni come tennis italiano di tennisti che si sono buttati un po' via perché avevano più talento di lui. Io ho già citato Paolo Canè. Io Canè l'ho amato. Ecco, un Canè con la testa di seppi sarebbe stato un top ten tutta la vita. Eh sì, assolutamente. Prima hai citato il fatto che ti piacerebbe intervistare Matteo Berrettini. Quali sono i giocatori? Magari un paio di nomi che se potessi scegliere intervisteresti anche tra quelli meno porti ovviamente. Quelli che ti danno l'idea di avere gli spunti, di avere una storia, qualcosa da raccontare. Kyrgios al primo posto. Kyrgios è una persona profondamente intelligente. Kyrgios è uno che chiunque l'ha letto nelle interviste si rende conto che ha una testa molto molto divertente e vivida. Poi è un pazzo, uno scriteriato in campo, però quando lo leggi ti rendi conto che è molto molto intelligente. Io mi ricordo due anni fa quando lui scrisse una riflessione sui social dicendo che si rammaricava del fatto di fare il tennista perché viaggiando tanto non aveva avuto il tempo di salutare la nonna che se n'era andata, che era stata la figura più importante della sua vita. Uno che fa una riflessione del genere è una persona profondamente intelligente, molto più profonda di quello che sembra in campo. Quindi mi divertirebbe tanto intervistare Kyrgios e poi mi divertirebbe intervistare quelle persone che mi sembrano molto sfaccettate e più complesse di quanto sembrino. Quindi per esempio mi piacerebbe intervistare Perra perché Benua Perra secondo me è un altro che ti regala un sacco di soddisfazioni e ti dirò mi divertirebbe molto intervistare anche Fognini perché anche Fognini secondo me è uno che ti racconta e nasconde tante tante spigolature che sarebbe divertente fare merci. Questo sicuramente. Della Nouvelle Vague mi sembra di aver capito la Next Gen che Shapovalov sia un po' il tuo prediletto. Sì anche se mi fa un po' arrabbiare io spesso partecipo a una pagina Facebook che si chiama Vitte di tennisti non eminenti dove noi ci divertiamo a commentare quelli che sono bravi ma non bravissimi quindi parliamo anche di gente due trecento al mondo ma ovviamente parliamo anche dei big e su quella pagina che è gestita da un mio caro amico Adriano Aiello grandissimo giornalista. Aiello ritiene che lui sia un po' un soprammobile Shapovalov perché è un po' uno bellino caruccio fighetto poi però quando si va a stringere non fa nulla. Ecco diciamo che per ora faccio fatica a dargli torto però spero di dargli torto presto perché Shapovalov è uno che mi diverte molto. Spero che non diventi un Gasché 2 intendiamoci. Se diventa un Gasché 2 vuol dire stare 7, 6, 8 al mondo tanta roba però secondo me Shapovalov è uno che almeno uno slam lo può vincere come lo vinse Corda e se lo ha vinto Corda che era un altro tenista che ho amato totalmente al di là delle beghe sul doping che non voglio citare adesso. Ecco mi piacerebbe almeno una volta vedere Shapovalov dicero uno slam. Allora gli ultimi minuti li vorrei dedicare a questo gioco che ho preparato visto che ho promesso di non parlare di politica ma soltanto un accenno lo voglio fare perché mi piaceva tra l'altro è una domanda che ha fatto non sapendo che avrei fatto questo gioco Roberto Fabiano che è il fratello di Thomas che ha postato poco fa. Grande Thomas Fabiano, grande. Cioè sul fatto di accostare i giocatori di tennis ai politici ovviamente con la possibilità di andare indietro nel tempo perché diciamo che è forse il meglio non aggiungo non aggiungo altro e volevo partire un po' dai Fab Four quindi sostanzialmente chi potrebbe essere la storia della politica Roger Federer? Mamma mia quanto è difficile. Allora Federer stando in Italia Federer devo paragonarla a un grande politico del passato che ha saputo unire il paese quindi ti direi o un presidente della repubblica come Inaudi o un politico come De Gasperi. Non faccio fatica a scendere oltre loro quindi uno dei due. Perfetto Inaudi e De Gasperi se ne erano dato un attimo il segnale ma l'abbiamo l'abbiamo capito la risposta. Ok. Invece Djokovic non era le marre e che potrebbero essere? Djokovic mi mette in difficoltà. Djokovic tra l'altro ha fatto in queste ore una cosa meravigliosa perché si è scoperto che ha fatto delle beneficenze per gli ospedali italiani soprattutto quello di Bergamo per la vicenda coronavirus quindi lui è una grande persona più di quanto sembra in campo quindi come persona lo paragonerei a un politico meraviglioso la lista non è così lunga ma c'è. In campo è meno simpatico è più attaccato al potere è costretto a dominare sempre quindi è un dittatore non troppo simpatico in campo limitatamente in campo quindi lo paragonerei se volessi fare il perfido lo potrei paragonare a un Andreotti chiaramente un Andreotti al di là delle beghe legali che non c'entra niente giuridiche oppure un presidente degli Stati Uniti molto forte dominante però ecco lo paragono a un politico di difeso notevole. Nadal ti dirò qualche ora fa mi sono messo a leggere una storia sugli Stati Uniti e non so perché l'associazione che mi hai fatto con questa domanda mi è venuto il Nadal del presidente degli Stati Uniti prima della seconda guerra mondiale Franklin Delano Roosevelt che fu il presidente degli Stati Uniti che fece rinascere gli Stati Uniti dopo il disastro della grande recessione quindi fu il presidente del New Deal il presidente che poi condusse gli Stati Uniti durante la seconda guerra mondiale uno dei presidenti più amati dagli americani giustamente. Marrae sono molto in difficoltà perché Marrae non l'ho mai amato granché come tennista per carità fenomeno gli auguro ogni fortuna adesso ho avuto una sfiga assoluta quindi speriamo che si che guarisca al meglio però non è mai stato un tennista da me amatissimo diciamo che visto che ha sempre diviso molto era un po' il più debole dei Fab Four lo paragonerei a un grande politico ma molto divisivo con delle con dei lati oscuri come per esempio Craxi quindi uno che ha portato il PSI a livelli assoluti come lui ha fatto con la Gran Bretagna ma che al tempo stesso ha saputo anzi ha saputo ha diviso molto anche la critica e pure il pubblico fermo restando che lui non ha sicuramente le spigolature e le negatività che aveva Craxi e gli auguro ogni fortuna di guarire appieno. So che c'è già un paragone che hai fatto con Alexander Zverev. Sai che è il più facile che mi viene Alexander ma sarà anche criticabile sicuramente lo è un gioco però io quando vedo Zverev mi viene in Renzi io non so perché. Zverev intendiamo di Zverev è molto più forte più bravo di Renzi per carità però Zverev ha quell'aura di quanto è bravo quanto è bello quanto è divino poi però lo vai a vedere concretamente e dici sì ma è davvero tutto sto fenomeno e visto che Renzi è stato un po' questo nella politica italiana Zverev è enormemente più bravo siamo d'accordo è un bellissimo giocatore però non mi fa impazzire appieno lo trovo un po' finto tra mille virgolette e quindi tendo a paragonarlo a Renzi e non è il mio tenista preferito. Andiamo avanti a questo punto non possiamo non citare i giocatori di cui abbiamo parlato quindi Nick Kyrgios. Kyrgios è difficilissimo però ti dirò Kyrgios alla fine alla fine sai chi lo paragono a un politico pazzo che sapeva fare cose meravigliose ma che ha fatto anche tante sciocchezze cioè pannella. Kyrgios per me è pannella cioè Kyrgios è uno che può fare la legge sul divorzio sull'aborto però che fare l'appoggio a Berlusconi e Kyrgios è un po' così quindi il pannella migliore ma anche il pannella meno bello e meno da ripiangere. Ovviamente noi ci siamo concentrati sul tennis maschile ma una puntatina su Serena Williams nella politica mondiale? Serena Williams la paragono a una grande politica dominante purtroppo potrebbe essere la Merkel una di quelle che c'è soltanto lei e il resto è ombra la miglior Williams non esisteva nessun altro esattamente come la Merkel in Europa. Assolutamente e prima hai citato anche Bautista Gut e mi interessa chiedertelo perché Bautista Gut è il giocatore proprio solido concreto che sta lì che non lo ammazzi mai a meno che non giochi da fenomeno chi potrebbe essere uno così? Allora Bautista Gut intanto faccio un po' adesso fatica a criticarlo perché non mi è mai piaciuto però quando poi ho visto l'eroismo che ha avuto nel saper nel riuscire a giocare a tennis e giocare delle partite pazzesche dopo la morte della mamma rispetto umano da 1 a 10 10 milioni quindi questa è la premessa perché stiamo giocando io e te ed è bene che si sappia. È chiaro che il suo tennis non mi fa impazzire perché è veramente un medianaccio tra mille virgolette non credo che ci sia un mediano nobile come lui nella politica di Alan attuale volendo fare una battutaccia mi ricorda un po' Tabacci quelli che ci mettono tanto impegno però poi concretamente fan poco dopodiché Bautista Gut rispetto a Tabacci e Mecker o questo sia chiaro. Sì questo sicuramente. Allora andiamo avanti gli ultimi nomi perché poi arriviamo agli italiani. Prima gli italiani però ti chiedo Shapovalov a questo punto visto che che è un altro argomento caldo della dell'intervista. Shapovalov potrebbe diventare il più grande politico di tutti i tempi se lo volesse o comunque un grande politico allo stato attuale mi vuole dire che mi ricorda un po' Civati. Civati è un amico per carità quindi lo parlo. paragonato a una bellissima persona però Civati era uno che era un rosio incredibile nella politica italiana e poi si è un po' ecclissato da solo anche per la sua coerenza perché non ha Torenzi quindi si è inviluppato in un imbuto perché ha avuto coraggio a buttarci si dentro quell'imbuto però non è uscito appieno. Io spero che con tutto l'affetto per Civati spero che Shapovalov non si fermi al rango nobilissimo di Civati ma diventi qualcosa di più importante. Allora veniamo agli italiani a questo punto. Chiudiamo con il trittico italiano. partiamo da Berrettini in ordine di classifica. Berrettini mi sembra oltre a un bellissimo giocatore una bravissima persona e quindi al di là degli aspetti anagrafici se io penso a una bella persona nella politica italiana penso a Bersani. Quindi ti dirò che come umanità e come capacità di farsi tifare a favore perché si riconosce subito la bellezza dell'uomo sia il tennista sia il politico lo paragono a Bersani al di là dell'aspetto politico sinistra destra ma ecco Bersani una bella persona Berrettini una bella persona. E Fognini? Fognini è difficilissimo Ale però guarda gioco per gioco quando si arrabbia mi ricorda il Cossiga quando faceva il piccolatore come presidente della Repubblica. Ecco mi ricorda un po' il Cossiga che si arrabbiava quindi mi ricorda un po' quel Cossiga che faceva le conferenze stampe e si metteva a parlare male di tutti. Poi è molto più nobile Fognini, Cossiga, Cossiga ha delle diciamo delle criticità soprattutto negli anni 70 a cui non voglio tornare però il Cossiga Picconatore un po' ricorda i Fognini Picconatore in campo. E chiudo questo gioco con Yannick Sinner e tra l'altro nel chiedertelo aggiungo rispetto a tutto quello che stavamo dicendo che Sinner è oltre a essere fortissimo ma è anche un personaggio involontario cioè lui non vorrebbe essere personaggio ma lo è di fatto perché la storia delle carote piuttosto che ma anche l'atteggiamento che è in campo a volte fa ridere per la maniera quasi farzesca con cui si arrabbia in campo. È verissimo, è verissimo. La tua recensione come sempre è perfetta. Allora per me non c'è un Sinner nella politica italiana neanche lontanamente. Qualche mio collega qualche mese fa l'avrebbe potuto paragonare a Mattia Santori, il leader delle sardine che sembrava dover spaccare il mondo poi il giorno dopo ce ne siamo tutti dimenticati. Io non ho mai creduto granché in Santori che io non l'avrei mai paragonato a Santori Sinner che è un fenomeno, premesso che non c'è nessun fenomeno nei politici italiani giovani, lo paragono a Ellie Schlein che è una bravissima, secondo me, politica di sinistra, molto bella, molto nobile, molto sognatrice e quindi auguro di portare fortuna con questo paragone tanto a Sinner quanto Ellie. Assolutamente, questo gioco mi sembra che è piaciuto anche tantissimo degli ascoltatori che stanno facendo un tanto anche loro tutti quanti i paragoni. Ti faccio un'ultima domanda prima di ringraziarti e salutarti. È una domanda che si fa spesso a chi segue il tennis in questo periodo. Djokovic, Federer, Nadal, non si scappa da questi nomi ultimamente, a parte Dominic Thiem che quantomeno in finale è arrivato e si è ben comportato, anzi è arrivato vicino a vincere uno slam. È lui il giocatore che secondo te vincerà per primo uno slam dopo quelli che sono ormai i Fab 3 perché Murray purtroppo l'infortunio ce l'ha per il momento accantonato? O secondo te potrebbe essere qualcun altro a vincere un grande torneo prima di Thiem o prima di altro? Se tu me l'avessi domandato a febbraio t'avrei detto sicuramente Thiem, anche perché si sarebbe giocato come prossimo slam di Roland Garros, quindi nel Roland Garros dopo Nadal teoricamente ci sarebbe stato Thiem. L'anno scorso la finale fu Nadal Thiem, quindi Thiem era il secondo favorito per Piativerz, o il terzo se qualcuno ci voleva mettere davanti Djokovic. Io temo Alessandro che il coronavirus spariglierà molto le carte perché i tennisti staranno fermi tanti mesi, saranno a contatto con la paura, col silenzio, con l'assenza, con la pausa, non viaggeranno in aereo dalla mattina alla sera, perderanno il senso dell'agonismo, il senso della battaglia e quindi credo che potrebbe cambiare davvero tutto, al netto della bravura enorme di Federer, di Nadal e di Djokovic che non si scappa da questo, però potrebbe davvero cambiare tutto, quindi non me la sento assolutamente di fare un pronostico, saranno sicuramente loro i favoriti, mi verrebbe da dire più Nadal e Djokovic che Federer, Federer lo metto un po' dopo, però può anche darsi che oltre a Thiem magari qualcuno in questa pausa avrà trovato se stesso, quindi potrebbe indovinare le due settimane della vita Zverev, come le potrebbe indovinare Zizipas, come le potrebbe addirittura indovinare un Kyrgios perché è così pazzo che magari dentro il coronavirus ha ritrovato se stesso. Sarà veramente una sciarada ritornare a vedere il tennis perché potrebbe capitare di tutto, al netto dell'enormità soprattutto di Federer, Nadal e Djokovic, però credo che il coronavirus spariglierà un po' le carte. E ti faccio però quest'altra che è arrivata ora perché è un nome che in effetti non abbiamo citato e andrebbe citato, te la faccio comparire, perché non avete parlato di Medvedev? Perché abbiamo sbagliato, perché quando fai una chiacchierata tra amici e anche se non ci siamo mai visti dal vivo e improvvisi è chiaro che non rispetti uno un canovaccio e quindi ti dimentichi anche delle cose importanti e questo credo che sia anche bello delle chiacchierate tra amici. Ha ragione, ha ragione l'ascoltatore, Medvedev è un altro che può tranquillamente vincere uno slam, tranquillamente no, ma lo può vincere. Il Medvedev che si è visto a US Open 2019 è un Medvedev che non ha paura di nessuno e quella è stata un'altra partita epica. Io non amo esattamente la meccanicità, diciamo così, anzi la meccanica dei movimenti di Medvedev, non è esattamente il tenista più bianco che ci sia, non ha quei gesti bianchi che io amo. Però il Medvedev è che si è visto nella seconda fase del 2019, è stato a tratti straripante. Se ritrova quella esplosività enorme può vincere tranquillamente uno, ma anche più slam. Nel salutarti ti faccio invece una domanda, anzi una richiesta, perché è mia ma anche di tanti altri ascoltatori che mi hanno scritto sapendo di questa intervista, ovvero ma si riesce a reperire, a comprare in qualche modo Canto del Cigno, il tuo libro su Van Buster? Sono state almeno dieci persone a chiedermelo nel giro di cinque ore. Intanto ti ringrazio e vi ringrazio per la domanda. Canto del Cigno è stato anche il motivo per cui di fatto io sono diventato poi giornalista, perché fu il libro di cui si innamorò Edmondo Berzelli, che io avevo intervistato, lui lo lesse e mi mandò un messaggio dicendomi magari a trent'anni avessi scritto come scrivi tu. E da lì mi aiutò a entrare alla stampa. È stato l'unico aiuto e l'unica spinta che ho avuto nella mia vita. Purtroppo quel libro è del 2004, è uscito per Limina, che è una casa editrice che nel frattempo se n'è andata. Sono stati ristampati tutti i miei libri, tutti, tranne tre. C'è Tempo, Canto del Cigno e Il Terzo e I Cani Lo Sanno. Allo stato attuale non si trova, non si trova neanche come book, quindi io spero che riesca. Non sarà facile, perché nel frattempo è uscita anche l'autobiografia di Marco Van Basten, quindi non ci sarà proprio quest'urgenza. Diciamo così, se continueranno ad andare molto bene i miei libri, come sta succedendo negli ultimi anni, obbligherò qualche casa editrice a ripubblicarlo, perché per quanto fossi ingenue e acerbo nel 2004, credo che sia stato un libro piacevole, diciamo così. Ci sono affezionato a quelli libri. Ed in salutarti ti arriva un consiglio da Walter che dice che un'intervista che dovresti fare è Ernest Gulbis. In effetti potrebbe essere divertente. Come no, come no, assolutamente è un altro pazzo scatenato che ha tante cose da raccontare. Condivido il consiglio, ne prenderò, ne farò tesoro. Io ringrazio Andrea Scanzi, ovviamente ti auguro e auguro a tutti noi, insomma, di poter tornare a vedere tennis dal vivo, ma anche in televisione, insomma, che si ritorni presto a far tutto quello che chiamiamo fare nello sport e non soltanto, e ti auguro ovviamente una buona serata. Grazie a te a voi, è stato un piacere. Ciao Ale, complimenti per tutto quello che fai, è fatto. Grazie mille.